rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di nico in game siamo qui beh di certo red dead redemption 2 non ha bisogno di presentazioni che non l'ha mai giocato ragazzi avrà sicuramente seguito la storia in qualche altro modo una storia lunga violente straziante molto molto straziante ricca di emozioni tantissime emozioni che ci catapulterà insomma nel vecchio west l'ultima fatica della rockstar games è un capolavoro assoluto che io ho giocato e finito circa un anno e mezzo fa e ho completato la storia in 70 ore circa più o meno 60 68 ore 70 una settantina di ore insomma ma ragazzi desideravo tantissimo rivivere questa avventura per riproporvela sul canale perché ne vale veramente la pena non sarà come come le solite serie che porto sul canale red dead lo giocherò con molta calma e gli episodi potrebbero risultare molto lunghi o molto corti alcuni episodi saranno di totale svago di totale scazzo e altri invece si incentreranno soprattutto sulla sulla storia principale altri ancora saranno dedicati all'esplorazione eccetera ma lo giocherò con molta calma senza senza insomma prendermi l'impegno costante di giocarlo infatti non so nemmeno se se riuscirò a portarvi tutta la serie visto che è molto molto lunga questa questo gioco quindi non so se riuscirò mai a portarvi tutta la serie io come già detto l'ho già finito e quindi non ho altro da dire bando alle ciance e ci buttiamo subito per iniziare insieme questa fantastica avventura andiamo nel 1899 l'era di fuori legge dei pistoleri stava giungendo al termine l'america stava diventando una terra governata dalla legge anche il selvaggio west era quasi stato domato che emozione ragazzi regiocarlo a distanza di un anno sempre una stronzata ma le ultime bande erano braccate e venivano eliminate una dopo l'altra ma è sto provando una grande emozione rockstar game presenta red dead redemption 2 e vai così da 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 che ci buttiamo dai dai abigail says he's dying dutch we'll have to stop someplace ok arthur's out looking I sent him up ahead if we don't stop soon we'll all be dying whether it's may I'm just hoping the law got us lost as we did there arthur any luck I found a place where we can get some shelter let davy rest buddy you know and all the man in town and it ain't far come on come on yeah Capitolo 1 Conter L'ho in here Miss Gaskell Get that fire lit quick Miss Jones Bring in whatever blankets we have Mr. Pearson See what we've got in terms of food Davy's dead There was Nothing more you could have done What are we gonna do? We need supplies Well, first of all, you're gonna stay here And you were gonna get yourself worn Now, I sent John and Micah scouting out ahead Arthur and I We're gonna ride out See if we can find one of them Miss Just for a short bit And I don't see what other choice we have Listen Listen to me, Ollie, for a moment Now we've had A bad couple of days I loved Davey Jenny Sean, Mac They may be okay We don't know But we lost some folks Now, if I could throw myself Throw myself in the ground In their stead I'd do it Gladly But We're gonna ride out And we're gonna find Some food Everybody We're safe Now There ain't nobody Following us Through a storm like this one And by the time they get here Well, we're gonna be We're gonna be long gone We've been through worse than this before Mr. Pearson Miss Grimshaw I need you to turn this place Into a camp We may be here for a few days Now, all of you All of you Get yourselves warm Stay strong Stay with me We ain't done yet Come on, Arthur All right We've got some work to do We ain't run into them yet So They both must have headed down the hill Sure Hey I ain't had time to ask What really went down back there on that boat We miss you That's what happened Come on Come on Hey You need horses? Oh, yeah Hey, Mr. Smith Get yourself indoors You need to rest that hand Come on I'll live Get in the door, son We need you strong Okay Spettacolare All right Let's head out And we'll show you what we're gonna find out here, Dotson We have to try Stay close We'll do our best to stick to the trail It's a damn Two days or more like this now Oh, it has to blow over soon Bridge coming up Take it easy C'è ma guardate la tormenta Proprio ti arrivi in faccia Sembra proprio di essere lì A pelle si sente un freddo Si sente un freddo Si sente un freddo You up ahead Who's there? Who? Micah Gentleman Was Yeah And Mac, Sean We all know Quite a business I'm glad you're all right, Micah Always Ask him if he's seen John Hey Have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in He hasn't seen him He'll be fine Things always turn out right for that boy I hope Mac and Sean Are still out there somewhere too Move up, Arthur I'll cover the rear You sure about this, Micah? Mr. Morgan I never thought I would be so pleased to see your face Been kind of lonely out here Where's everyone else? Old mining camp, back up to hell Huddled around the fire We're waiting for daddy to put food on the table Che spastare We've said it before We've got Come back now Come back now Come back now Come back now That one Okay Let's keep it down now Gentlemen It's just up ahead Okay Let's go down there It's just up ahead It's just up ahead You can see it It's just up ahead La barra esterna per la salute rimanente. Allora non dipende dalla città in cui si legge nella tua salute. Allora, è per slegare il cavallo. Devo fare la parola, non vogliamo scaricare questi ragazzi. Allora, un'altro è un'esplosione. Un'altro, un'altro, è un'esplosione. Un'altro, un'altro, è molto più intimidato che tre tre gattugiata degenerati. Arthur? In quella cattolica a l'aerea. Micah, parta da l'arrivo. hiscritti scuse me hello oh hello fran what you want I am very sorry to disturb you my friends and I well we got into some trouble up the way lost in the storm Ah, ragazzo. Non possiamo aiutarti, mister. Ho... ...arthur. Arthur, abbiamo un problema. Ci sono... ...cadaveri. Cazzo. C'è un tipo lì. Ah, ho sentito. Guarda, 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 guarda. Allora, più! Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. ...il te è morto. Cazzo. Oh, non me ne copri le spalle. Ce n'è un altro. Sta scappando. Non mi sfugge, non mi sfugge. No, è morto, è morto. Arthur, ho detto che avrei avuto questo. Non sembra di andare troppo bene. Oh, gli Odrisco. Micah, vai portare i porsi più vicino alla casa. Arthur, andiamo a cercare la cabina. Mi sapeva come una partita qui. Le icone che coprono vaste aree sul radar indicano le zone da perlustrare. Inoltre, la saluta si svuota per passare dal temple. Sì, ok. Ok, bene. Io ho mangiato. Possiamo stacciare la casa. C'è un po' strano, ok? C'è un po' di qui. C'è un bel prezzo sul colmo Driscoll. C'è un po' di qui. C'è un po' di qui. Un po' di qui. C'è un po' di qui. C'è un po' di qui vivono. Micah ha trovato un corpo morto nel luogo. C'è un po' di qui. Gallette e cartucce. C'è un po' di qui. 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 C'è un po' di qui che pensi che potremmo usare e mi metti qui qui. carne di manzo. Micah, Arthur, continui a guardare le cose. Allora vado verso... C'è un po' di qui. C'è un po' di qui. Micah, tu cercavi la canna, e vedrai che ci fai. C'è un po' di qui. 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 E' questo è il po' di qui. Oh, si è? C'è un po' di qui. dovrei uccidirli? no non ancora troviamo cosa stanno facendo qui e dove è Colm oh, questo figlio di p***o va a parlare dove è Colm, Otrisco? che figlio però cazzo ha ceduto subito no i 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